Sto facendo una nuova postazione Per ora magari vi metto qualche spoiler Sono So c'è le 5 Ho iniziato all'una e mezza Vabbè Spero di riuscire ad andare live oggi Sto morendo E intanto anche King ci sta aiutando ad assemblare il computer Vuoi arrivare anche te Angelina? Guardate che casino Ok Ragazzoli c'è un piccolo problemino tecnico-tattico Cioè non è un problemino Però ci siamo appena accorti Che abbiamo preso tutto questo Ma non abbiamo le casse Quindi non possiamo sentire l'audio Ci dovremmo mettere sempre delle cuffie Ma ti fa due giri comunque Facciamo due giri Come se è il problema Vai sali Ok Ok Bella per Fastweb Paghi la 100 mega E questo Grande Fastweb Sempre migliori per le nostre stream Numeri uno Fan numero uno La tua connessione internet è lenta Grazie Ragazzoli Stamattina mi sono scordato di darvi il buongiorno Ma in realtà non è me lo sono scordato Che proprio per me non c'è stato un buongiorno Perché non c'è stato neanche una buonanotte Tipo sono andato a dormire alle 5 qualcosa di mattina E alle 9 giro in piedi Perché sto finendo di assemblare il computer Per settare tutte le cose Per fare le live Più dei video E delle cose E sto ultimando Un ultimo progetto Che arriverà Presto Vi dico presto Quindi Oh oh Abbiamo appena finito la live di oggi È stato due ore in live Grazie mille Che eravamo in tantissimi Grazie mille Con la nuova postazione E In realtà Devo finire la weekend league su FIFA Però magari Farò qualche comparsata In qualche live di qualcuno Io che devo giocare a FIFA E fammela weekend league Solo che Prima sclererò un po' qua E poi sclererò su FIFA Poche ore di sonno Si fanno sentire Però voglio dirvi che Almeno ho finito Qui al computer Di fare una parte Di un progetto Che vi Vi spiegherò presto Molto presto E A parte questo Domani Nuovo video